Alla vista di una volante di polizia sono ripartiti velocemente tentando di far perdere le loro tracce, ne è scaturito un inseguimento che si è concluso alle porte di Pedalino dopo che il conducente aveva disatteso più volte l'alte imposto dagli agenti. Conducente e passeggero sono stati quindi fatti uscire dall'auto e identificati. Si tratta di due soggetti resenti a palagonia e proprio il conducente, pluripregiudicato e per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti, era sprovvisto di documenti, oltre che sottoposta alla misura della sorveglianza speciale. Si tratta di Salvatore Pastore, 41 anni, catanese, ma residente a palagonia. L'uomo ha raccolto anche una denuncia per false dichiarazioni circa la propria identità personale assieme al complice, anche egli di palagonia, e anche per il fatto di non essersi fermato all'alta.